La crisi climatica è la più grande minaccia esistenziale che l'essere umano si sia mai trovato ad affrontare. La scienza ce lo dice da decenni, ma in realtà l'abbiamo visto anche noi con i nostri occhi, soprattutto nelle ultime due estati, caratterizzate da incendi incontrollabili, alluvioni, frane letali. È il problema che più di tutti sta cambiando il nostro modo di vivere su questo pianeta, eppure l'immagine che abbiamo utilizzato per tanto tempo per raccontarlo è questa. Se vi torna familiare è perché ce l'hanno propinata in qualsiasi salsa per 40 anni nel il tentativo di smuovere le nostre coscienze all'azione. Ma che cosa ci dice questa immagine? Ci dice che c'è un problema, certo. Ci dice anche che noi siamo i responsabili. Ma ci dice anche che questo problema non ci riguarda, perché tendenzialmente nella nostra quotidianità non ci sono né zattere di ghiaccio né orsi polari. C'è invece un'immagine molto più efficace a mio avviso, che riguarda sempre gli orsi polari. Questa. Tra il dicembre del 2019 e il febbraio del 2020, questo villaggio della Russia-Artica è stato preso d'assalto da un branco di orsi polari. Persone che avevano sempre visto questi animali come innocue apparizioni all'orizzonte, ad un tratto se li sono visti arrivare in massa, a battere le porte azzampate, a ribaltare cassonetti, a seminare il panico nelle strade. Quello che succedeva è che questi animali stanno vedendo il loro habitat sempre più degradato e quindi si spostano sempre di più negli insediamenti umani per trovare cibo. Il tema di questa edizione di TED è Apocalipsis. E Apocalipsis in greco significa letteralmente sollevare il velo. Il problema è che la crisi climatica è coperta da un velo molto spesso e molto pesante. Questa immagine ci dice che c'è un problema, che noi ne siamo i responsabili, che questo problema ci riguarda, ma ci dice anche altre due cose. Ci dice che ogni separazione tra natura e essere umano è illusoria e che la crisi climatica ogni giorno ci sta mostrando un mondo diverso da quello che siamo abituati a pensare. Solo che se è vero che è la più grande minaccia esistenziale, è anche vero che è quella che siamo meno equipaggiati a prendere sul serio. E c'è una frase di Goethe che riassume il problema perfettamente, secondo me. Vediamo solo ciò di cui andiamo in cerca e andiamo in cerca solo di ciò che conosciamo. Allora, per dare un po' di sostanza a quella che sembra una frase teorica, voglio fare un gioco con voi. Ora io vi mostrerò alcune delle immagini che ho scattato durante un mio viaggio alla ricerca di luoghi che già sono colpiti dalla crisi climatica e dove già la crisi climatica sta cambiando il nostro modo di vivere. Vi mostrerò un'immagine adesso e vorrei che voi pensaste a cosa c'è che non va in questa immagine. Sembra che sia tutto a posto, anzi, sembra il ritratto di un luogo paradisiaco. Ed è esattamente quello che io ho detto ad Hassan, la persona che mi ha portato qui. Questa è Toulouse-du, un'isola delle Maldive. Le Maldive sono una delle nazioni che per prima rischia di sparire dalle cartine per colpa dell'innalzamento delle acque. E quando io ho detto ad Hassan questa cosa, lui sorridendo mi ha detto, certo, tu vedi un paradiso perché non eri qui dieci anni fa e perché non stai osservando con abbastanza attenzione. E allora io ho provato a osservare con più attenzione e in effetti se voi provate a guzzare la vista, vi renderete conto che la palma più piccola è sorretta da un bastone e basta questo piccolo dettaglio per far scattare degli ingranaggi diversi nella nostra testa. Il nostro sguardo comincia a cambiare e noi cominciamo a renderci conto di cose che prima non vedevamo magari. Ad esempio che la spiaggia ha un aspetto strano, forma una cunetta e man mano che questa cunetta sale, le palme si raddrizzano. A quel punto torna molto più utile rendersi conto, torna molto più facile rendersi conto che queste palme non sono inclinate dal vento, stanno crollando per colpa dell'erosione costiera. Quindi quello che per me è un luogo paradisiaco per Hassan è il ritratto della decadenza. Qui invece siamo a Pontoshan in Louisiana. Allora anche qui abbiamo a che fare con quello che sembra una normalissima località portuale. In realtà dove voi vedete dell'acqua fino a 30-40 anni fa c'era prato, mucche che pascolavano. E in effetti se aguzziamo la vista anche qui vedremo pali della luce emergere dalle acque. Cosa significa questo? Che non ci possiamo più fidare del nostro sguardo? No. Significa che noi siamo abituati a pensare che i nostri occhi siano in grado di cogliere la realtà nella sua interezza, ma non è proprio così. Perché la nostra mente tende a formare degli schemi mentali in modo da non dover continuamente aggiornare i valori che arrivano dall'esterno. Questo fa sì che noi ci creiamo delle immagini mentali dei luoghi e anche di tante altre cose che poi sovrapponiamo alla realtà e questo spesso ci impedisce di vedere quanto un luogo sia già degradato. Voi conoscerete benissimo ovviamente Venezia. Di Venezia abbiamo un'immagine mentale molto potente, molto fissa, tanto che continua a sembrarci un gioiello intoccabile anche se nell'ultimo secolo le acque si sono già alzate di 30 centimetri e diversi monumenti, diversi edifici si stanno già consumando per colpa dell'acqua salata. E cosa succede quando noi guardiamo queste immagini? Cosa succede nella nostra testa quando noi cerchiamo di incamerare i segni del declino e non ce la facciamo? Per rispondere a questa domanda voglio fare un altro esperimento con voi. Voglio che voi pensiate al vostro animale preferito. Ce l'avete un'immagine chiara nella testa del vostro animale preferito? Allora se la statistica non mi inganna alcuni di voi avranno pensato a uno di questi dieci animali. Allora questa non è una classifica che ho fatto io in maniera arbitraria. È presa da uno studio intitolato la paradossale estinzione degli animali più carismatici. Frank Curshampe e altri colleghi dell'Università di Parigi sono andati e dalle persone hanno fatto una domanda come quella che io ho fatto a voi. Qual è il vostro animale preferito? L'idea era di prendere le risposte e confrontare questa lista con l'effettivo stato di conservazione di questi animali. Anche perché quando si andava a chiedere alle persone quale fosse il loro animale preferito la maggioranza era convinta che questi animali non fossero a rischio di estinzione. In realtà però molti degli animali che vedete qui sono a rischio di estinzione. In particolare i primi tre, la tigre, il leone, l'elefante. Nel caso dell'elefante africano di foresta solo negli ultimi nove anni si sono persi il 62% degli esemplari. Com'è possibile? È possibile perché noi non vediamo tendenzialmente questi animali nel loro habitat naturale ma li vediamo in continuazione rappresentati nei documentari, nei film, sulle scatole dei cereali, nei cartoni animati. E quindi il nostro cervello tende a sviluppare un'immagine mentale di questi animali e convincerci che vada tutto bene. Come avrete intuito questa cecità selettiva non riguarda soltanto i luoghi e gli animali che ci circondano. È applicabile a diversi aspetti della nostra vita, diversi aspetti che ci rendono difficile renderci conto di quella che appunto è la più grande minaccia esistenziale che stiamo affrontando. E in particolare questo è vero perché il nostro sistema d'allarme tende a non attivarsi a causa della crisi climatica e a causa del riscaldamento globale. E per capire perché dobbiamo prima ricordare che noi esseri umani siamo degli animali e come tutti gli animali siamo il prodotto di un percorso evolutivo. Questo significa che le nostre caratteristiche mentali e fisiche sono quelle che hanno aiutato i nostri antenati a sopravvivere in un mondo molto diverso da questo. Un mondo in cui, per dire, le minacce erano molto più inquadrabili e molto più immediate. E a questo proposito lo psicologo sociale Daniel Gilbert ha individuato quattro tipologie di stimolo che riescono ad attivare il nostro sistema d'allarme. Noi tendiamo a entrare in allarme quando la minaccia è personale, improvvisa, immorale e attuale. La crisi climatica è un problema complesso, stratificato, distribuito nello spazio e nel tempo, non riconducibile a un singolo nemico e dunque non tocca nessuno di questi tasti. Il risultato è che noi non riusciamo a sviluppare una paura viscerale per la crisi climatica. Ma c'è di più perché l'evoluzione purtroppo ci ha dato in eredità anche una serie di limiti cognitivi che ci rendono difficile renderci conto del problema. Ad esempio abbiamo la tendenza a pensare che se anche qualcosa di brutto stia per succedere, succederà prima a qualcun altro in un altro posto rispetto a noi. Abbiamo la tendenza a, quando ci dicono che qualcosa di brutto sta per succedere, a controllare cosa stanno facendo le persone intorno a noi prima di entrare in allarme noi stessi e questo è l'effetto spettatore. Ma soprattutto abbiamo la tendenza a pensare che il mondo in cui viviamo non potrà cambiare più di tanto e tendiamo a preferire che non cambi più di tanto, soprattutto se ci abbiamo investito a livello economico, a livello emotivo. Questi sono il bias di status quo e l'errore costo-effetto. Il vero problema è anche che questi limiti cognitivi non soltanto ci rendono difficile prendere atto della crisi climatica, ma ci rendono difficile anche trovare delle vie per affrontarle, per uscirne. Fino a prova contraria, l'essere umano è l'unico animale che è in grado di fare quello che i neurologi chiamano viaggio nel tempo mentale. Ossia noi siamo in grado di proiettare un'immagine di noi nel passato, quando ricordiamo, o nel futuro, quando pensiamo a cosa potrà succedere. E attenzione che questa seconda cosa la facciamo in continuazione. I nostri cervelli sono programmati per pensare continuamente al futuro. Il problema è che per farlo utilizzano gli stessi strumenti che utilizza per pensare al passato. E questo fa sì che noi facciamo molta fatica a immaginare un futuro radicalmente diverso dal nostro presente, soprattutto un futuro migliore, radicalmente migliore e diverso dal nostro presente. A questo punto io so cosa state pensando. Fabio, ma tu sei venuto qua a darci solo cattive notizie oggi. No, vi giuro che c'è anche una buona notizia e la notizia è che tra tutte le cose che l'evoluzione ci ha dato in eredità, ce n'è anche una che è tipicamente umana e che può aiutarci nella lotta alla crisi climatica. Ed è la nostra capacità di fruire e creare storie. Noi siamo letteralmente dipendenti dalle storie. Anche quelli tra voi che magari non leggono tanti romanzi o non guardano serie tv e non amano il cinema, tutti utilizziamo le storie per raccontare un'aneddota a un nostro amico, per ancorare la nostra dottrina religiosa. utilizziamo le storie anche per parlare di calcio, l'epica calcistica e addirittura quando sogniamo il nostro cervello continua a propinarcene in forma di sogno. Ma com'è che l'evoluzione che è sempre così parsimoniosa ha fatto sì che noi dedichiamo così tanto tempo ed energie a cose che non esistono? Il punto è che le storie si sono sviluppate come sistema per trasmettere esperienze in maniera immersiva. Sono praticamente delle palestre dove noi possiamo fare esperienza di qualcosa che non abbiamo vissuto e quindi prendere in prestito un'esperienza altrui, uno sguardo altrui. E quindi se è vero che la crisi climatica non può essere abbracciata con un solo sguardo, è vero che noi possiamo prendere in prestito quelli degli altri e sovrapporli per avere una visione più profonda. Ed è anche vero che possiamo imparare a raccontarci un futuro diverso, un futuro non necessariamente cupo, un futuro in cui la decarbonizzazione ha reso questo mondo più vivibile e più equo. E di fronte a un'immagine come questa, una Venezia radicalmente diversa da quella che conoscete ma comunque riconoscibile, il nostro cervello può andare in due direzioni. Può pensare che si tratti di una storia di fantascienza oppure può pensare che sia un progetto fattibile, un progetto realistico. Ci vuole uno sforzo in più per andare nella seconda direzione. Ma è uno sforzo che possiamo fare, è uno sforzo che dobbiamo fare. Perché se è vero che il mondo si cambia ai tavoli internazionali e si cambia arginando i grandi inquinatori, è anche vero che prima di tutto dobbiamo imparare a cambiarlo qua dentro. Grazie.